Ancora una rapina in villa, questa volta a Fermignano, a casa della famiglia di imprenditori Rossi, pistola alla testa e bottino esiguo, niente immagini delle telecamere. Oggi in regione l'approvazione del nuovo piano sociosanitario, dopo due giorni di discussioni infuocate in consiglio, si punta sulla vicinanza ai territori. Dal 4 agosto la riforma fiscale e legge a tutti gli effetti, con l'approvazione alla Camera parliamo di documenti e provvedimenti con l'ospite in studio. E' opera di un fanese l'app Bussola per trovare sempre pesce fresco, con un clic si può sapere dove, come e quanto lavorino i natanti. Benvenuti a All News, prima edizione. Al mio fianco, negli studi di Fano, c'è il dottor Mario Paccapello, commercialista. Buongiorno Camilla. Buongiorno e a tra poco. Grazie. Un commando ha assaltato una villa a Fermignano, pistola alla testa dell'imprenditore Alberto Rossi, 32 anni, mentre il fratello Vittorio è stato picchiato con forza. Quattro banditi incappucciati hanno fatto irruzione ieri mattina alle 8.30, nella casa degli eredi di Giuseppe Rossi, cofondatore dell'omonima zincatura di Fermignano. In quel momento era presente solo uno dei quattro figli, Alberto, immobilizzato con dei lacci ai polsi. Vittorio, non vedendo arrivare in fabbrica il fratello Alberto e non ricevendo risposte al telefono, è rientrato a casa e ha subito l'attacco fisico dei banditi, poi fuggiti con un bottino esiguo. 3 o 4 mila euro, ma prima di andarsene hanno rubato una Mercedes classe A. Non ci sarebbero immagini registrate dalle telecamere. Per Vittorio Rossi, colpito alla testa, è stato necessario farsi medicare. Le indagini sono affidate al procuratore Irene Lilliu. Tragedia, ieri pomeriggio in Contrada Morichella, San Ginesio, ha perso la vita Claudio Spinelli, 69enne, medico in pensione, residente nel Fermano, direttore della scuola di volo Aeroclub dei Sibillini, che era da poco atterrato col parapendio e aveva contattato gli amici. Gli stessi l'hanno trovato poco dopo, seduto a terra, privo di sensi. Hanno chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. La causa del decesso, forse un malore improvviso e fulminante. Oggi l'ispezione è cadaverica all'ospedale di Macerata. È in arrivo il nuovo piano sociosanitario. In questi giorni in Consiglio regionale è stato l'unico argomento affrontato. Tra fortissimi contrasti tra le fazioni e il disco verde definitivo. Luca Falcetta. Da sempre, ogni volta che si discute il nuovo piano sociosanitario, il clima in Consiglio regionale diventa infocato. L'opposizione sale sulle barricate, mentre la maggioranza difende a spada tratta i suoi propositi. Ma questa volta il nuovo documento di programmazione della sanità marchigiana, il primo dopo il Covid, ha una doppia rilevanza. Si passerà da una sanità baricentrica a una più vicina ai territori, come è nelle intenzioni del governatore Francesco Acquaroli. Sono state istituite le aziende sanitarie territoriali e nominati i rispettivi direttori. Resta però il nodo delle lunghe liste di attesa. Un tema particolarmente sentito che ha fatto dilungare la discussione, tanto che la seduta di ieri sta proseguendo anche oggi, per una o due giorni non stop. Su questo punto la maggioranza è sicura che dopo l'approvazione del piano si vedranno i primi effetti, in particolare a partire dal 2024, mentre per l'opposizione non c'è più tempo da perdere, perché sono già passati due anni e mezzo dall'insediamento della Giunta. Questo è il vero problema che deve essere affrontato per garantire un servizio a tutti, specie a chi non ha la disponibilità economica per ricorrere sempre a portafoglio. Su questo punto l'opposizione non ha fatto sconti. Il piano l'ha rigettato al mittente, non ritenendolo all'altezza. Non ha presentato infatti emendamenti. Il centrodestra ha replicato che ha dovuto risolvere tutti i problemi ricevuti in eredità dal centrosinistra. È l'essolito gioco delle parti, ma sulla salute dei marchigiani ormai non c'è davvero più tempo da perdere. Il piano sociosanitario era l'occasione per riprogrammare senza guardare indietro. Questo è quello che diciamo, mettete le risorse e fate le scelte. Invece è stato fatto assolutamente il contrario. Sono state fatte nessuna scelta e non sono state messe le risorse. Quindi tutto quello che si farà lo si fa con le stesse disponibilità finanziarie e inevitabilmente ci saranno meno servizi, soprattutto se non si fanno quelli che servono. Prima era un problema di risorse, mancano i soldi per pagarli. Adesso, anche quando ci sono i soldi per pagarli, non c'è il personale meno. Questo allunga le liste d'attesa e in più c'è la fuga per la concorrenza delle strutture private verso il pubblico. È un circolo vizioso che va cambiato. Innanzitutto con l'introduzione di nuove regole per il personale e quindi per la formazione del personale. Ancora cronaca, incidente questa mattina lungo l'autostrada A14 intorno alle 10 e 15 nei pressi dell'uscita di San Benedetto del Tronto al chilometro 311. Un'auto con a bordo una coppia di trentenni originari di Milano è stata tamponata da un camion lungo la corsia in direzione sud e si è schiantata violentemente contro il guardrail. Sul posto il 118 Icaro è tornato indietro poiché i feriti non erano così gravi. La coppia è stata trasportata all'ospedale Madonna del Soccorso. Si registrano code fino a 7 chilometri in direzione Taranto. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto. Paura al civico 22 di Via Colbe a Pesaro per colpa forse di un cortocircuito. I danni sono stati provocati soprattutto dal fumo e non dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle ore 17 circa con un autobot. L'incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra di uno stabile di due piani. Non si segnalano persone coinvolte e le abitazioni vicine non hanno avuto ripercussioni. I vigili del fuoco sono intervenuti anche questa notte in Via Podesti ad Ancona per l'incendio di alcuni cassonetti per la raccolta differenziata. La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. L'evento ha coinvolto marginalmente anche il contatore del metano di una struttura per anziani, poi sostituito dall'azienda del gas. Dottor Mario Paccapello, parliamo del nostro tema settimanale, il fisco. È un periodo di grandi novità e riforme sul fronte fiscale? Sì, veramente Camilla è un periodo di grandi riforme. Infatti il 4 di agosto, con l'approvazione definitiva da parte della Camera, la riforma fiscale a 2023-2024 è divenuta da tutta legge. Si tratta di un provvedimento di oltre 70 pagine con cui il Parlamento delega al governo alla revisione del sistema tributario nazionale ad attuare entro 24 mesi mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Si tratta di un percorso molto ambizioso che trova la sua origine all'interno del PNRR, uno degli obiettivi del PNRR, con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il grado di certezza del diritto, ridurre il contenzioso e attrarre capitali esteri. In pratica, questa legge delega vuole consentire è quello di cercare di superare l'attuale sistema tributario italiano, connotato da un elevato grado di complessità, ostico anche per gli operatori del settore, come ha tra l'altro sostenuto e ribadito il ministro Carlo Nordio recentemente, è volto a creare un clima di maggior collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti. È un provvedimento ad ampio respiro? Certo, ad ampissimo respiro, infatti praticamente progressivamente la norma, pur essendo ancora agli albori, delega il governo a prevedere riforme nella struttura dell'IRPEF, della tassazione del reddito d'impresa, la revisione dell'imposta sul valore aggiunto e superamento progressivamente dell'IRAP, la razionalizzazione di alcune imposte indirette come l'imposta di registro, quella sulle successioni, sulle donazioni, l'imposta di bollo, la revisione complessivamente della materia dell'accertamento fiscale, nuove norme per rendere più stringente la riscossione, quindi per permettere allo Stato di recuperare somme che molto spesso restano in riscosse per tanto tempo e quindi definitivamente perse e soprattutto l'introduzione della flat tax. Grazie per questo primo intervento. Francesco Corvaro è il nuovo inviato speciale per il cambiamento climatico della Farnesina. Iesino, classe 78, è professore associato in fisica tecnica industriale al Politecnico delle Marche, esperto del settore energetico, vanta diverse collaborazioni internazionali e in particolare negli Stati Uniti. È stato scelto dal ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale Antonio Tajani e dal ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto. Cambiamo argomento. Pesce fresco e locale, un'app innovativa in soccorso di chi fa la spesa e dei pescherecci che potrebbe rivoluzionare l'Europa. Vediamo. L'app quello che si propone è di dare delle informazioni aggiornate e dettagliate su quello che succede in mare. Un sistema innovativo e unico, uno screening continuo. Il professore fanese Roberto Gramolini ha messo a punto un'app che va in soccorso di chi vuole comprare pesce fresco, nostrano e dei pescherecci che potrebbe rivoluzionare la pesca e bloccare l'Europa. La sfida è stata mettere a punto un algoritmo di analisi che fosse in grado di descrivere nel dettaglio le attività svolte da ciascuna imbarcazione in mare, monitorate quasi per provocazione. L'app nasce da una sfida che io e un mio collega con cui ho lavorato in FAO ci siamo posti alcuni anni fa. Negli ultimi dieci anni anche il mondo della pesca è stato un po' invaso da quello che si chiamano i big data e quindi sono a disposizione da una decina d'anni appunto come dicevo informazioni numerose sulla posizione e sulla velocità delle imbarcazioni e la nostra sfida era quella di capire che cosa queste imbarcazioni fanno nel momento in cui vanno in mare e descrivere la loro attività nel dettaglio. Perché questo può essere d'aiuto ai consumatori? Perché in qualche modo i consumatori possono visualizzare l'attività dei pescherecci in mare e quindi decidere eventualmente quando andare ad esempio a comprare il pesce sapendo che le imbarcazioni il giorno prima sono uscite e quindi il pesce nelle pescherie è un pesce fresco. Soluzioni sostenibili e condivise. L'app potrebbe aiutare anche nell'ambito della pesca a strascico che ha nell'adriatico radici molto antiche e profonde. Dimostrare qual è l'attività che questi pescherecci fanno nel dettaglio e in tempo reale, non con un ritardo di uno o due anni, potrebbe essere un elemento da mettere sul tavolo con i decisori politici perché le decisioni sulla gestione della pesca siano rispondenti a quella che è la situazione reale. Il fermo a pesca potrebbe essere ripensato permettendo di avere pesce fresco tutto l'anno. Le vongolare, questi fanno dei periodi di fermo a pesca distribuiti nel corso dell'anno e non concentrati in un unico periodo permettendo quindi di avere il prodotto sul mercato direi praticamente tutto l'anno. E questa potrebbe essere una strada. Ancora cronaca, rissa in un locale di Ancona in zona stazione, sul posto Carabinieri e Croce Gialla. Claudio Comirato. Serata piuttosto movimentata in un ristorante zona Piazza Rosselli ad Ancona dove all'interno di un locale si è scatenato un mezzo parapiglia che secondo la prima indiscrezione avrebbe coinvolto due persone ma che alla fine ha visto uscire i tanti clienti in fretta e furia dal locale. Per cause non meglio precisate è nato un diverbio tra due persone ed una di queste, prima di passare le vie di fatto con calcio e pugni, non ha trovato di meglio che spruzzare dello spray orticante al peperoncino in faccia al rivale. Una scena che ovviamente ha scatenato il panico all'interno del ristorante e che ha visto numerose persone chiamare il 112, numero unico dell'emergenza territoriale. Sul posto a riportare la calma ciò ha pensato una pattuglia del radio immobile dei Carabinieri, subito intervenuta, che peraltro si trovava nei paraggi. Nella colluttazione un uomo è rimasto ferito al volto. Per tale motivo è stato necessario l'intervento di un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto dello stesso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Dottor Rappaccapello, riprendiamo il nostro discorso sul fisco. Quali provvedimenti ritiene più rilevanti relativamente alla riforma? Come abbiamo detto prima, si tratta di una legge recente, di ampissima portata, con moltissimi provvedimenti tecnici e quindi riservati in particolare agli operatori del settore e con un altissimo grado di specializzazione. Per quanto riguarda le norme che secondo me possono essere quelle più vicine alle persone di tutti i giorni, che hanno l'obiettivo di veramente cercare di mettere qualche soldo in tasca agli italiani, io vedrei principalmente come l'importanza dell'applicazione della flat tax alle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario, la tredicesima ai premi di produttività. Questo vuol dire che queste somme, sulla base di un sistema ancora da definire e da implementare, saranno sottratte alla tassazione progressiva tipica dell'IRPEF per essere assoggettati ad un'imposta sostitutiva in percentuale flat, quindi praticamente orizzontale, una percentuale dell'importo. D'altro canto, un'altra misura sicuramente importante è rappresentata dall'estensione della disciplina, della cedolare secca, alle locazioni per gli immobili diversi di quelle di civile abitazione, che è tuttora, che è oggi attiva. In pratica, sostanzialmente, si avrà una tassazione anche qui, non più, cioè sarà sottratta la progressività, la tassazione dei proventi, dei canoni di locazione, anche per quegli immobili che vengono locati sostanzialmente a esercenti, arti e professioni diverse dagli abitazioni. E questo qui permetterà, sicuramente potrebbe essere una norma, che permetterà di calmerare il caro affitti di cui tanto si parla sulla stampa e sulle televisioni. Per altro verso, sul fronte delle imprese, per le imprese di più piccole dimensioni, per i professionisti, secondo me sarà salutato con favore il provvedimento che introduce quello che si chiama il concordato preventivo biennale, cioè, praticamente si tratta di una riedizione, di una norma che già era stata introdotta per un paio di annualità sotto il ministero del governo Tremonti, praticamente dal ministro Tremonti negli anni 2003-2004, che prevede che il fisco possa determinare in maniera prioristica, sulla base dei dati in suo possesso, il reddito, il reddito e quindi le imposte per i due anni successivi, e conseguentemente, qualora il contribuente si volesse adeguare a queste determinazioni del fisco, sarebbe sottratto ai controlli. E questo è un evidente presupposto per quello che riguarda il recupero di una notevole dote di risorse da dedicare all'evasione di più alta portata, evitando di controllare tantissime posizioni nei confronti dei soggetti più piccoli. Bene, non è facile districarsi tra i meandri, ma grazie ancora per queste delucidazioni. Prego Camilla, buongiorno. E adesso ci spostiamo a Massignano, l'azienda Cossignani Tempo, è stata inserita niente meno che nello speciale 100 eccellenze 2023 di Forbes. Per noi è collegato in diretta Mario Lerocca. Mario. Ciao Camilla, grazie e benvenuti a Massignano, nella splendida collina di Massignano, a due passi dall'Adriatico. Oggi siamo in compagnia di Letizia Cossignani, che insieme al fratello è titolare dell'azienda Vinicola Cossignani. Perché questa azienda Vinicola è finita su tutte le cronache? Perché è stata premiata tra le 100 eccellenze dalla rivista Forbes, la rivista internazionale. L'emozione di questo riconoscimento, Letizia? Beh, è stata sicuramente una grande emozione, ma soprattutto ha rappresentato un grande momento di affermazione per me e mio fratello Edoardo, che mi accompagna in questa avventura dal 2017. Essere riconosciuti come eccellenza del Made in Italy 2023 da una prestigiosa rivista internazionale ha rappresentato per noi un traguardo, ma anche un punto d'inizio, perché ci ha dato sicuramente ragione su quei valori fondanti che ci hanno accompagnato fin dall'inizio. Sicuramente uno dei più grandi è il valore del tempo che abbiamo deciso di valorizzare nella spomentizzazione metodo classico. Questo riconoscimento sicuramente ci darà voce verso un pubblico più attento ed esigente, ma soprattutto ci permetterà di proseguire sulla rotta tracciata. In una zona, in una regione, anzi quella delle Marche nota per vari vini, dal Verdic, dal Rosso Piceno, Passerina, Pecorino, voi avete scelto il metodo classico, perché? Diamo voce comunque a vitigni autoctoni, quindi parliamo in questo caso di Pecorino e Sangiovese, e mai non avesse del tutto nuova. Quindi il metodo classico può essere sicuramente riassunto in quello che è il nostro clima aziendale. Quindi il metodo classico, nuove storie. Un metodo centenario che trova la sua essenza nell'intersezione tra ciò che è classico e ciò che è inedito. Quindi dare una voce diversa al vitigno autoctono, rimanendo fedeli alla sinergia col territorio, ma appunto in una veste assolutamente tradizionale. Con una scuola francese, non mi raccontate? Assolutamente. Sì, abbiamo avuto la fortuna di incrociare le nostre strade, i nostri percorsi di vita con dei grandissimi vignerone della zona Rochampagne, che forse sono stati i primi a spingerci verso questa direzione e a farci proseguire il lavoro di famiglia. Quindi abbiamo lasciato le nostre rispettive professioni e ad oggi siamo assolutamente, forse anche più convinti della prima vendemmia che abbiamo affrontato a proseguire su questa rotta, ma soprattutto a continuare a dare voce al territorio della Valmenocchia che si sta rivelando assolutamente atto a questo tipo di produzione. Ma la vita in cantina sono tutte rose? No, assolutamente. Come avete visto oggi siamo già in preparazione della vendemmia. La nostra vendemmia probabilmente inizierà questo weekend, nella giornata di sabato. Sono vendemmie che forse è un po' fuori dal tempo definire precoci, perché con il cambiamento climatico parlare di vendemmie precoci ormai è fuori dal tempo, però ovviamente per il tipo di produzione e per il mosto che andiamo a ricercare richiedono comunque un ingresso in campo anticipato per poter ottenere mosti strutturati, ma soprattutto esili verso le acidità e quindi meno grado zuccherino per evitare appunto di ottenere spumanti eccessivamente alcolici. È tutto da Massignano, grazie ovviamente a Letizia Cossignani. La linea torna a te Camilla. Ciao a tutti. Grazie mille Mario, a te e alla tua ospite. A Fano c'è una 17enne che si sta facendo largo a suon di note musicali. Si chiama Asia e ne sentiremo ancora parlare. Il servizio. 17 anni è una voce che graffia, un viso dolce e la spensieratezza della sua età, condite con una passione senza confini. Asia Antonietti, cantante fanese di Fano, ha appena aperto il concerto di Gaia, la vincitrice del programma Amici 2020 all'interno del Summer Paradise Festival a Marotta. Un anno fa potevo solo immaginarmelo, anzi forse qualche mese fa poteva essere solo nei miei sogni. Quindi è stato veramente un evento spettacolare. Devo dire che un po' temevo il fatto di aprire un concerto, però mi ha lasciato un ricordo bellissimo. Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice che sta raccogliendo non pochi consensi con i suoi pezzi. Ha un altro appuntamento importante in agenda. Venerdì prossimo, DJ on stage a Riccione, con Turraru di Zerbi e lei è tra i cinque ragazzi che si esibiscono prima dei big. Sarò sul palco di DJ on stage l'11 agosto in piazza Le Roma a Riccione. È sempre stato il mio sogno da bambina, ho detto bene perché con mia mamma andavo sotto il palco quando ero piccolina e dicevo mamma voglio cantare là, voglio cantare là. Però nel tempo non era mai successo. Oggi è arrivato il mio giorno. Come è nata questa passione per il canto? È iniziato molto presto. Beh sì, io ho iniziato molto presto, è nata in famiglia perché mio papà suonava, quindi diciamo credo sia stata una cosa innata che già avevo da piccolissima. A otto anni ho iniziato a prendere le prime lezioni di canto e poi non ho più smesso di iniziare a studiare e sto continuando, ho iniziato anche a scrivere dei miei brani. Il prossimo obiettivo è molto prestigioso, Sanremo 2025. Beh sì, è il mio sogno, è il mio prossimo obiettivo e proprio salire sul palco dell'Ariston. So che magari potrei sonnare molto in grande però diciamo mi piace. Siamo in addirittura d'arrivo e il momento del sommario. Ancora una rapina in villa, questa volta a Fermignano a casa della famiglia di imprenditori Rossi. Pistola alla testa e bottino esiguo, niente immagini delle telecamere. Oggi in regione l'approvazione del nuovo piano socio-sanitario dopo due giorni di discussioni infuocate in consiglio si punta sulla vicinanza ai territori. Dal 4 agosto la riforma fiscale è legge a tutti gli effetti con l'approvazione alla Camera. Parliamo di documenti e provvedimenti con l'ospite in studio. È opera di un fanese l'app Bussola per trovare sempre pesce fresco. Con un clic si può sapere dove, come e quanto lavorino i natanti. È tutto per la prima edizione di All News. Io ringrazio tantissimo il nostro ospite Mario Paccapello. Grazie a te Camilla. Buongiorno dottore, grazie per averci seguito. Ora ci sono sigla, meteo e pagina sportiva. L'informazione di TVRS torna questa sera alle 20.15. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.